Dolly di Michael Stewart e Jerry Herman, diretto da Saverio Marconi. Nel ruolo di Dolly Gallinger-Levy, Loretta Goggi, che sul parco interpreta una piacente e intraprendente vedova specializzata nell'arte di combinar matrimoni. A New York, dapprima per i suoi trascorsi mondani e ora per la sua nuova attività, Dolly si è guadagnata una grande fama e stesa poi nella vicina cittadina di Yonkers, dove conosce Orazio, uno stagionato e avaro commerciante di Granaglia interpretato da Paolo Ferrari. Orazio, che ha ingaggiato Dolly per allontanare sua nipote Omen Garda dal fidanzato Ambrogio, le rivela anche la sua intenzione di fidanzarsi con la modista new yorkese Irene Molly. L'incontro con Orazio è decisivo, Dolly si innamora subito di lui e fino alla fine farà di tutto per conquistarlo, architettando situazioni sentimentali che porteranno alla conquista del cuore del portafoglio del burbero Orazio. È un personaggio talmente bello, talmente rotondo, talmente pieno. Ha dei momenti in cui è cialtrona, cattiva, sottile nella sua perfidia, così come è generosa, gioiosa, pastiziona nel senso positivo del termine e tenera. Un'attività artistica, quella del musical, che la Goggia ha sposato da quattro anni e che la vedrà ancora protagonista. Intanto, dopo Dolly, in cantiere ci sono tanti progetti. I proposti sono tantissimi, da Victor Victoria, Sunset Boulevard, Angeli con la pistola, La vedova allegra, Mary Poppins. Accanto a lei è un misogeno Paolo Ferrari. Amaro, apparentemente senza sentimenti, che tratta le donne quasi da schiavista, un maschilista in assoluto. Siamo alla pagina... Entri, sei catapultata in casa, magari in momenti poco opportuni, oppure entri in una casa dove non sei amata. In teatro chi viene, esce e spende, ahimè, questo forse è la nota dolente. Tanti soldini per venirti a vedere, ci viene con quell'attenzione stupenda che premia chi non sbaglia. Il musical ti dà la possibilità di passare un paio d'ore in un clima diverso e non stupido, cioè non la risata per la risata fine a se stessa, ma io penso che un certo tipo di musico come questo è veramente una bella torta con la panna, però fatta da un pasticcere che sta nel suo mestiere, insomma.